S.M.S. anche stasera saluto il senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, grazie per essere qui, che si occupa molto di fonti rinnovabili di energia, questo è il suo ruolo all'Italia del Senato, però volevo chiedere se possiamo dire qual è l'obiettivo del Movimento 5 Stelle nel fare ostruzionismo al decreto del fare, che è passato, ma l'ostruzionismo continua ed è andato avanti per due notti con interventi lunghissimi. In questo caso stiamo sfruttando quello che il regolamento legittimamente ci concede, semplicemente per attirare l'attenzione, per attirare l'attenzione su un fatto che ripetiamo da diversi mesi e non solo noi ormai, cioè che il Parlamento è esautorato delle sue funzioni, il Parlamento è diventato purtroppo un simulacro di se stesso, quindi non c'è il potere di decidere effettivamente che cosa fare, questo potere ce l'ha in mano il governo, ce l'ha in mano soprattutto con lo strumento della fiducia, perché quando le cose prendono una piega che il governo considera poco soddisfacente, mette questo spauracchio, mette questa spada di Damocle e i partiti in maniera molto ossequiosa rispettano sempre la fiducia, quindi noi stiamo solo protestando legittimamente e pacificatamente e portando l'attenzione su questo gravissimo problema, perché ormai sono anni e anni che andiamo avanti con una Repubblica che non è più parlamentare ma è governativa. È stato molto chiaro, allora quanti discorsi all'M5S perché siccome noi siamo per la libertà di opinione e di espressione e gli sms che arrivano come vedete vanno in onda, spesso sono anche un po' sopra le righe, ma noi li diamo se non sono proprio del tutto impubblicabili. In Parlamento due esponenti del Movimento 5 Stelle, ieri e oggi, hanno chiamato in causa il Presidente della Repubblica, oggi qualcuno l'ha chiamato, l'innominato, ma oggi il Re Giorgio, che non è un insulto. In entrambi i casi i due parlamentari sono stati richiamati prima da Grasso e oggi da Boldrini. Poi francamente, non so, voi avete protestato... No, abbiamo consultato anche il regolamento, perlomeno del Senato, sul regolamento del Senato non è prescritto questo impedimento. Tanto è vero che altri colleghi del Senato, quindi io parlo per il Senato, hanno menzionato questa persona e Grasso non ha avuto assolutamente nulla da di dire. Puntualizzo solo che noi siamo a favore del taglio del stese militare. Mi avevi detto contro il taglio. Ah no, no, scusa, a favore. Noi siamo a favore del taglio delle spese militari. Sì, io molto semplicemente vorrei dire che qui siamo in un cortocircuito, siamo in un cortocircuito nel quale abbiamo la politica che è dominata dalle grandi lobby finanziarie, dalle grandi lobby del petrolio, del gas, del carbone, quindi abbiamo la politica che è un tutt'uno con i mass media e abbiamo questo circolo vizioso nel quale non ne usciamo più. Quindi l'agenda politica viene dettata da quello che i mass media propongono. I mass media propongono quello che le lobby vogliono far proporre. Quindi siamo in una situazione veramente di circuito vizioso. Abbiamo un regolamento del Parlamento che è fatto in maniera tale, studiato ad arte, studiato ad hoc, che è praticamente impossibile uscirne. Abbiamo queste tecniche di urgenza che ci mettono in ginocchio, quindi abbiamo decreti che ci arrivano dall'oggi al domani, abbiamo colleghi in commissione che ricevono 160 pagine di emendamenti alle 19 di sera e devono votarle alle 8 e mezza della mattina dopo. Quindi abbiamo una situazione proprio regolamentare, che parlo inteso come regolamento del Parlamento, è quella la prima riforma che andrebbe fatta, perché naturalmente il Parlamento è il cuore del nostro sistema legislativo. Ma il fatto essenziale è che siamo un paese che da anni ha perso proprio un'etica di comportamento. Siamo in mano a persone che non sanno assolutamente neanche come si scrive etica. Loro basano tutto il loro comportamento in base a speculazioni, quello che li fa guadagnare di più, quello che li fa guadagnare di più e più velocemente. Della speculazione finanziaria, avevo parlato un paio di mesi fa quando eravamo ancora in campagna elettorale, non è cambiato assolutamente nulla, ci mancherebbe altro, non è che perché sono arrivati i grillini, ci hanno steso un tappeto rosso, anzi, stanno facendo di tutto naturalmente per combatterci. E abbiamo di fronte lobby finanziari che sono potentissime. Io sono in Commissione Industria, quindi mi sto occupando dell'energia perché l'energia è di pertinenza della Commissione Industria. Abbiamo una lotta gigantesca tra petrolio, gas e carbone, che in questo momento danno energia al Paese, e le rinnovabili. Quindi abbiamo una lotta immane, abbiamo delle situazioni pazzesche. Abbiamo l'Enel, per esempio, che va in Messico e fa delle operazioni che lì sono legali e qui in Italia la legge impedisce di farle. Quindi abbiamo delle situazioni paradossali, adesso chiaramente no. Mi fermo qui. Ma ci torniamo senza altro. Allora, prima di tornare su questi versanti, voi trovate sempre, voglio dire, siete fortemente contrastati, mi pare che a volte riusciate anche a svicolare rispetto ai bastoni. Ma ci proviamo. Comunque direttore, io riprendo un attimo la domanda che mi hai fatto all'inizio della nostra ostruzionismo, che l'abbiamo chiamato costruzionismo, la maratona che stiamo facendo in difesa della Costituzione, perché non avevo detto che in questo specifico caso ci stiamo battendo contro la riforma della Costituzione. Allora faccio un giro. Sì, esatto. Spieghi un attimo. Vogliono riformare un articolo della Costituzione molto importante sul cambiamento, sulle modalità di cambiamento della Costituzione. Allora, il governo, la politica, vuole dire agli italiani guardate che quanto ci stiamo dando da fare. Stiamo cambiando la norma più importante perché ci teniamo a voi, quindi ci stiamo dando molto da fare e vogliamo cambiare la Costituzione. Ma il problema non sono le leggi, non è il cambiamento della Costituzione. Il problema continuano ad essere le persone. Il problema sono centinaia e mila di persone che sono corrotte, diciamolo chiaro e tondo. La corruzione, il conflitto di interessi, persone che ricoprono ruoli che sono fortemente in conflitto di interessi con il bene pubblico. Questo è il problema principale. Abbiamo centinaia e mila di persone che stanno negli enti pubblici, statali, parstatali, nei ministeri, nelle grandi aziende, Enel, Enel, eccetera, che sono corrotte, che sono in conflitto di interessi. Questo è l'enorme problema. Possiamo cambiare la Costituzione, possiamo cambiare le leggi, ma se le persone sono corrotte non andiamo da nessunissima parte, non andiamo da nessuna parte. Quindi il problema sono le persone. Da che mondo è mondo? Non è l'organizzazione sociale, sono le persone. Se le persone sono sane, una comunità di schimesi senza tante leggi va benissimo. La dimostrazione di questa, l'ultima dimostrazione che abbiamo avuto in Parlamento, è che due settimane fa è stata votata per l'ennesima volta di sei mesi la proroga della detrazione fiscale del 65%. Allora, nonostante tutte le associazioni di imprenditori, i sindacati, le banche, i consumatori chiedono a gran voce una stabilizzazione di questa misura. Sindacati CGL e CISLUIL più Confindustria, quindi due soggetti che di solito sono totalmente in disaccordo tra di loro, hanno firmato ancora a dicembre del 2011 una dichiarazione nel quale dicono che l'efficienza energetica e le rinnovabili è la strada da perseguire. Se abbiamo stabilità legislativa di qualche anno, creiamo un milione e mezzo di posti di lavoro. Per cui non parliamo di verdi, non parliamo di simpatia per l'ecologia, parliamo di lavoro, parliamo di ripresa dell'economia. Loro dicono chiaro e tondo, dateci stabilità e creiamo un milione e mezzo di posti di lavoro, perché come diceva il sindaco che è appena uscito, abbiamo bisogno di ristrutturare il nostro sistema edile. Non dobbiamo costruire nuovo cemento, ma ristrutturare quello che c'è che purtroppo è un colabrodo. Allora ecco che abbiamo la dimostrazione che sono le persone a fare differenza, perché il Parlamento anziché recepire questo emendamento che noi avevamo inserito sul suggerimento, ce eravamo arrivati anche noi, ma tutte le associazioni di categoria hanno detto sì, andiamo avanti fino al 2020, il Parlamento ha detto no, andiamo fino a dicembre di quest'anno. Allora è dal 2007 che andiamo avanti a colpi, a botte, sempre temporane, le industrie ci dicono ma noi non possiamo fare programmazione, i privati meno che meno possono fare programmazione, quindi ecco che il problema sono le persone. Perché hanno votato di no? Perché ci sono le lobby del petrolio, del gas e del carbone che vogliono che si continui a bruciare moltissimo petrolio, gas e carbone perché serve per fare elettricità e serve per far andare le automobili. Questa è la realtà, non è un problema di leggi, di Parlamento, di Costituzione, il problema sono le persone. Se le persone sono corrotte e hanno conflitti di interesse non si va da nessuna parte. Allora a proposito di aziende, una cosa che agli italiani non viene detta, adesso stiamo affrontando la questione dell'ILVA in Parlamento, l'acciaieria e in buona sostanza il governo blinderà anche in questo caso la votazione mettendo la fiducia, quello che non viene spiegato è che il provvedimento principale che loro vogliono far passare è che in caso di fallimento dell'ILVA i primi crediti blindati che quindi verranno pagati sono quelli verso le banche, quindi deroghiamo completamente quella che è la regola normale, quindi pagare prima i dipendenti e i fornitori e andiamo a pagare prima le banche, quindi l'ennesima dimostrazione è che siamo governati da gente che è corrotta, sottomessa alle varie lobby. Un esempio invece qui locale, la Valdastico, l'autostrada che non ha ottenuto i permessi, quindi hanno organizzato di fare uno stralcio, quindi un percorso completamente diverso, anche in questo caso senza far nomi e cognomi è un regalo a Intesa San Paolo, è un regalo a Intesa San Paolo che vale circa 20 miliardi di euro, quindi due esempi precisi per dire che siamo governati da gente corrotta che ha conflitti di interesse. Molto chiaro anche qui.